Covid-19 in Sicilia, i contagi scendono a 3.629, guariti 991, 33 decessi, a Siracusa stabili i casi 538. Sono 3.629 nuovi casi registrati al fronte di 26.096 tamponi processati. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.394, il tasso di positività scende al 13,9%, ieri era al 15,4%. La regione è all'ottavo posto per contagio, gli attuali positivi sono 214.783 con un aumento di 2.605 case. Nell'ambito del contagio nelle singole province Catania 940, Palermo 578, Messina 574, Siracusa 538, Ragusa 331, Caltanissetta 258, Trapani 191, Agrigento 175, Enna 44. I guariti sono 991, mentre le vittime sono 33, portano il totale dei decessi a 8.214. Sul fronte ospedaliero sono 1.625 ricoverati, 35 casi in più rispetto a ieri. In terapia intensiva sono 164, stesso numero rispetto a ieri. Grazie.